SDM News, il primo TG degli Sport Outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli Sport Outdoor di montagna. Anche questa settimana è una puntata tutta da vivere con sci e scarpette da running. Transcavallo, in Alpago, manca solo la neve. Gli ingranaggi della macchina organizzativa Veneta girano a pieni regimi in vista delle prove individual e sprint di Coppa del Mondo ISMF. Anche se le iscrizioni non mancano, la mancanza di neve su tutto l'arco alpino tiene congelati i pensieri agonistici dei tesserati fisi. Ma non disperate, nel weekend del 19 e 21 febbraio tutto sarà pronto per spietare ben quattro gare che si alterneranno tra le nevi della schiaria di Piancavallo e le montagne dell'Alpago. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo, gli atleti saranno impegnati nella prova individuale in programma venerdì 19 febbraio, mentre la prova sprint si correrà sabato pomeriggio nello spettacolare anfiteatro naturale delle Buse di Piancavallo. Qualche ora prima, a Colinde, Stambre, parterà la prima tappa della Transcavallo, che sarà corsa sullo stesso tracciato della World Cup del giorno precedente. La seconda e ultima tappa si disputerà invece domenica mattina, percorrendo il tradizionale e spettacolare tracciato delle passate edizioni, con il guslon, punto nevralgico e metra di vari passaggi provenienti da diversi pendii, cimavacche, vallazza e il famoso canalino delle placche della Val Salatis. Il comitato organizzatore, oltre a pensare all'appuntamento di febbraio, sta lavorando parallelamente ai mondiali di scialpinismo, che si disputeranno a fine febbraio nel 2017. Le date non sono ancora state decise, perché seguiranno le indicazioni della Federazione Internazionale. Mille Grobbe. Il tracciato prende forma in vista dell'anello completo da 15 chilometri. La 34esima Mille Grobbe di Lavarone, in programma sabato 23 e domenica 24 gennaio, si veste di tricolore. La Federazione Italiana Sport Invernali ha infatti deciso di assegnare agli organizzatori del Team Futura anche l'allestimento di campionati italiani, cittadini e master. L'evento sta prendendo forma e la nevicata dei giorni scorsi, seppure non copiosa, ha fornito un apprezzato colpo d'occhio che mancava nel centro del fondo Mille Grobbe, anche se non ancora sufficiente per proporre l'anello di 15 chilometri. L'idea iniziale è di proporre un tracciato che verrà affrontato per due tornate dagli atleti presenti. La prima avrà validità anche come prova di campionato italiano, che assegnerà appunto il titolo su questa distanza. Chi vorrà perseguire per entrare in classifica della Mille Grobbe, 30 chilometri, potrà affrontare il secondo giro. Questo per quanto riguarda la gara di domenica, mentre sabato si disputerà una 10 chilometri a cronometro con partenza individuale sia per le categorie maschili sia per quelle femminili, ridotto a 5 chilometri per la categoria aspiranti. Se le condizioni in meteo non permetteranno l'allestimento dell'anello previsto, si valuterà un piano B su un circuito più breve. Nasego Mountain Running a metà maggio, la grande corsa in montagna brillerà nel Bresciano. Il prossimo maggio saranno Casto e il Sovallese, i grandi protagonisti, assegnando i titoli assoluti di vertica alle lunghe distanze. Grande entusiasmo per la società organizzatrice che questo mese aprirà ufficialmente le iscrizioni. Mountain Running Weekend, questa è la formula che da qualche anno a questa parte sta rappresentando un ulteriore pregiato ingrediente tra i palati fini dei numerosi appassionati di corsa in montagna. Due giorni di grande sport e spettacolo con l'assegnazione di titoli assoluti Master e Società, di Vertical Kilometer e Long Distance. A raccogliere il testimone lasciato da Malonna 2015 è un'altra equip bresciana che riunisce sotto il proprio simbolo le peculiarità, le energie e il grande entusiasmo di una terra operosa come poche. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha voluto premiare così gli organizzatori del Trofeo Nasego, gara internazionale di corse in montagna a lunghe distanze che da una quindicina di anni va in scena in primavera e che ha continuamente incrementato il proprio prestigio fino a diventare teatro dell'assegnazione di un titolo così importante e sentito. Il programma della Due Giorni dedicata alla grande Mountain Running prevede al sabato mattina il campionato italiano di chilometro verticale sull'inedito percorso del Vertical Nasego, mentre alla domenica, con partenza da casto e arrivo a Famea, il tradizionale Trofeo Nasego assegnerà sui propri 21 chilometri ed oltre 1.300 metri di dislivello positivo i titoli tricolore lunghe distanze ma accoglierà anche i campioni stranieri che saranno a caccia di un trofeo divenuto ormai tra i più ambiti nel circuito montano. Alta Valtellina Experience a fine giugno, un weekend mondiale nel cuore delle Alpi. Ora è ufficiale, nel 2016 la Valtellina avrà ben tre gare nel circuito Skyrunner World Series. La IESF, International Skyrunning Federation, ha recentemente ufficializzato il nuovo calendario di Coppa del Mondo nel quale, oltre al mitico trofeo Chima, figurano due new entry di sicuro al PIL, il Santa Caterina Vertical Kilometer e l'Allivigno Sky Marathon. Oltre alla grande corsa sul sentiero Roma, vera e propria pietra miliare e simbolo dello Skyrunning, la Federazione Internazionale ha infatti voluto premiare il sempre elevato livello organizzativo e la lunga tradizione di corsa a fil di cielo della provincia al centro delle Alpi, promuovendo sul campo entrambe le kermesse volute e proposte dal sei volte iridato della corsa in montagna Marco De Gasperi. Le due gare, disegnate nella suggestiva location dell'Alta Valtellina dal comitato organizzatore del Valtellina Wine Trail, esaltano la vocazione podistica di un territorio che ha dato i Natali a due atleti che hanno scritto la storia di questa disciplina nei primissimi anni 90, ovvero il furvese Fabio Meraldi e il sondalino Adriano Greco. La prima prova sarà venerdì 24 giugno con la seconda edizione del Santa Caterina Vertical Kilometer con partenza in linea degli atleti dal centro del paesino della Val Furva per arrivare in cima alla Cresta Sobretta dopo 3 chilometri e mille metri di dislivello positivo. Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, al cospetto delle imponenti cime dell'Ortres Cevedale, ad avvallare il felice esordio di questo evento furono niente meno che Urban Zemmer e la campionessa mondiale in carica di Skyrunning, e l'Isadesco. Sabato ci si sposterà nel piccolo Tibet con l'apertura del villaggio gara del secondo evento, la Livigno Sky Marathon, una cavalcata a fil di cielo da 34 chilometri con 2.600 metri di dislivello positivo che affronta un percorso inedito dalla natura selvaggia nel Parco Nazionale dello Stelvio, a cavallo fra il territorio italiano e quello svizzero. Una gara con tratti tecnici su cresta e passaggi a oltre 3.000 metri di quota in perfetto Skyrunning Style. Anche per questa settimana è davvero tutto, augurandovi un felice 2016, vi ricordiamo veloci i cambi e giù a bomba in discesa! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.